Il portale Bellinzona Channel festeggia il primo anno di esistenza e per l'occasione si tratta di un esperimento per ora, inaugura una radio internet. L'idea è venuta a quattro amici belinzonesi. A distanza di un anno, l'associazione che opera a scopo benefico conta una sessantina di aderenti. Quanto al sito, mensilmente è visitato da circa 6.000 persone. Notizie, sport, cultura, tempo libero sono i temi trattati dalla redazione di Bellinzona Channel, una redazione a politica e a confessionale, che può contare sulla collaborazione di molti entusiasti internauti. Il progetto è nato sulle ali dell'entusiasmo, della promozione Super League, nonché della finale di Coppa dell'ACB, soprattutto. Poi nel stesso periodo c'è stata anche la storia dell'officina, dove abbiamo potuto vedere questo spirito belinzonese all'opera, la voglia di confrontarsi, di stare assieme, di lottare anche per i propri principi e ideali. Quindi abbiamo pensato che una piazza virtuale, oltre che la piazza vera, potesse dare un aiuto, un sostegno a creare queste sinergie per insieme poter presentare qualcosa vicino al territorio del belinzonese. Bellinzona Channel promuove anche iniziative. Abbiamo partecipato all'organizzazione della partita a batticuore, quindi una partita del cuore tra Gran Consiglio e artisti tv italiani. In particolare, ultimamente, abbiamo fatto la Special Cup, che è un evento benefico, dove sono state coinvolte le società sportive a squadra del belinzonese insieme ai ragazzi del basket adattato. E adesso, come detto, pure un canale radio. Abbiamo voluto sicuramente comunque legarci a quella che è l'informazione del passato, con quella che è l'informazione moderna. Quindi abbiamo la radio, abbiamo l'internet, abbiamo la radio via internet, che è una cosa facilmente applicabile oggigiorno con le tecnologie moderne. Quindi c'è la possibilità anche da casa di poter operare e inserire i propri testi, le proprie musiche o creare addirittura i propri palinsesti. Lanciamo un appello, se qualche appassionato volesse occuparsi anche di questo settore di Bellinzona Channel, ben venga. La prossima tappa coinvolge nel progetto Internauti di altre regioni, un portale Bellinzona Channel che in futuro potrebbe dunque estendere il suo raggio d'azione all'intera Svizzera italiana.